Siamo alla fine dei tre giorni del quarto congresso internazionale di grafologia. Lei ha seguito i lavori ieri, l'altro ieri e oggi e quindi come ha visto questo congresso? Questo congresso mi è sembrato estremamente interessante. L'ho seguito anche per imparare molte cose. Come sociologo delle professioni seguire questo tipo di esperienze è molto importante. Soprattutto un congresso come questo che denota un grosso ruolo importante fatto dall'Associazione, dall'AGI che l'ho organizzato, direi proprio nell'aprire la pratica professionale grafologica a un problema. Questo rapporto dinamico tra la pratica dell'analisi grafologica per comprendere un problema, per comprendere il problema dei giovani, soprattutto delle varie età, dall'infanzia fino all'orientamento, all'età matura, alle varie fasi della vita, a che cosa può servire la grafologia. E questo mi è sembrato una delle cose più belle di questo congresso, proprio per la sua capacità di offrire delle indicazioni metodologiche per la soluzione dei problemi. Da questo punto di vista altrettutto uno degli indirizzi è proprio quello riferito alle professioni, ossia la grafologia utilizzata per valutare, come ha proposto anche Barbara Marconi, chi abbiamo davanti nel momento dell'avviamento professionale. Dal punto di vista della sociologia delle professioni, questo come si può verificare, come può funzionare? Sì, la grafologia mi sembra che possa essere una di quelle discipline molto importanti, sempre più importanti oggi, per acquisire una consapevolezza riflessiva. Questa consapevolezza riflessiva non soltanto è una bussola, una competenza che devono avere i professionisti per poter compiere le loro scelte, ma anche una bussola per poter orientarsi nella creazione di soluzioni organizzative, di sviluppi professionali, eccetera. Credo che questo aspetto qui sia stato un aspetto estremamente importante. Mi sembra che una delle cose che caratterizza questo congresso, adesso ne parlerò proprio dell'intervento che andrò a fare, sia il fatto che il grafologo, anche il grafologo professionista, spesso ha nel suo bagaglio tante esperienze professionali. Non è difficile campare di grafologia, quindi per forza di cose, i grafologi sono persone capaci di dialogare con altre professioni. E quindi, ecco, queste sono altre cose che mi hanno colpito in questo convegno, questo congresso, il fatto che questa apertura al dialogo, a quelle che sono state chiamate da Anna Castelli le professioni consorelle, ecco, questa capacità di lavorare con, ecco, del cum, nella complessità, che spesso è più tipico delle professioni piccole, che hanno poco potere, che però possono, proprio per questo forse, possono darci un'indicazione innovativa, perché la capacità di lavorare, di integrare i saperi, di integrare i punti di vista, è una delle cose più importanti, diciamo, nello sviluppo delle professionalità. Si è parlato anche con, in alcuni interventi, per esempio, quello di Tommaso Franchini, dell'apporto effettivo che il grafologo, come professionista, può dare nello studio, per esempio, in quel caso si parlava di indagini, vere e proprie indagini. Da questo punto di vista, quale può essere lo sviluppo della professione del grafologo in Italia, in cui il riconoscimento attuale ancora rimane minore rispetto a tanti altri paesi europei? Io credo che una delle cose che ha dimostrato questo convegno è la capacità di sviluppare la ricerca, di sviluppare la ricerca e quindi di ancorare sempre di più la professione a una prospettiva scientifica. Questo aspetto è estremamente importante. L'altro aspetto molto importante è la capacità di certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso della propria vita professionale, per creare una possibilità di dimostrare anche la qualità. Questo non è un discorso che riguarda soltanto i grafologi, ma riguarda tutte le professioni, anche quelle che hanno gli ordini, eccetera, perché non basta essere abilitati, abilitati, avere un'abilitazione a esercitare per poi essere effettivamente capaci. Quindi anche questo tipo di lavoro di accreditamento bisognerebbe cercare che le professioni avessero strumenti per poter dimostrare al pubblico, ai clienti e alle istituzioni la loro competenza e la loro funzione sociale. Credo che questo non può avvenire come nel passato, deve avvenire in forme nuove, anche in forme compatibili con il quadro europeo, che non prevede più monopoli come una volta. Però in forme di accreditamento sì, in questo senso le associazioni svolgono un ruolo fondamentale. Grazie.